Le regole del presidente Bonfiglio Sì, ne avevamo già parlato Ma quando è il capitano ad esporsi Ratificandone l'efficacia È tutta un'altra storia Guarda, le regole da noi ci stanno dalla serie B Praticamente, ne abbiamo fatto tutta la scalata In tre anni, quindi Sono abituato Pago un sacco di multe Quindi insomma, le regole per me Non vanno benissimo Ad inizio stagione qualcosa Nell'amalgama viola sembrava non funzionare Poi Alberto Loi Le sue lavagne tattiche Il duro allenamento invernale Ora il Football 8 È una macchina che ha gli ingranaggi Messi al posto giusto Quando è cambiato il mister Abbiamo cambiato proprio modo di giocare Prima con Mr. Marian si giocava tutto nello stretto In rapidità, adesso da quando è cambiato il mister Ha imposto una prima punta pesante davanti E da quando è successo questo ho preso il mio posto I comandamenti del presidente Messaggi chiari e dirette Multe salate che De Angeli Vede come prova della serietà di una società molto presente No, è giusto perché altrimenti ognuno fa come gli pare Essendo un torneo Poi si può prendere sempre troppo sotto gamba la cosa Il presidente fa bene, la squadra è la sua E quindi ben vengano le regole L'ultima fatica ha portato però la batosta domestica A firma della Venere in bichini Capace di trionfare per 4-0 al Donorione Occhio Football 8 Romanord Il presidente ha il coltello dalla parte del manico Però diciamo che lui si fa rispettare E va bene così Perché ci deve stare il presidente Lui ci sta Vai so danse Hey